Musica Ciao a tutti ragazzi siamo Raby e Molly E oggi ragazzi saremo a scuola e saremo con una professoressa super cattiva Piano 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 perché tutti sanno che le professoresse super cattive non vogliono rumore Quindi possiamo spingere i nostri pulsanti ragazzi Piano che ci metto una nota Comunque sia ragazzi voi dovete assolutamente essere iscritti perché stiamo raggiungendo gli 800.000 iscritti Fateci arrivare a questo traguardo incredibile e vi promettiamo che prenderete sempre 10 nella prossima verità Ok allora non ve lo promettiamo proprio diciamo che dovete studiare e impegnarvi Però se vi iscrivete potremmo darvi dei consigli Allora direi di incominciare Bash the teacher via Mamma mia ma sembra una scuola di mercoledì Adams Ma no sembra una bellissima scuola Adesso si si è colorata Oh mio dio Mrs. Thunderface Oh è cattivissima Raby Ok si sai chi sembra un po'? Chi sembra? Granny Sembra Granny è vero ragazzi? È vero ragazzi sembra Granny Allora Raby dobbiamo trovare un sacco di modi per disturbare questa professoressa Ok allora io so già come farla arrabbiare Vediamo prova Beh sicuro lui farà qualcosa No Abbiamo tirato un pezzo di carta col povero pappagallo No 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 Attenzione guarda c'è lì c'è un lampo o un tuono non lo so La barra della oh ho capito se si riempie secondo me si arrabbia Proviamo 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 con la postione Ok nulla Mappamondo Oh mamma Tiriamo la carta del mappamondo Non possiamo tirare la carta dappertutto Tiragliela in testa Raby Tiragliela in testa vediamo Eh non se ne accorge Attenzione Ok proviamo la porta Aspetta però moglie aspetta Fermo Quando arriva la barra ad essere completa Secondo me lei si gira e non dobbiamo farci vedere ok? Ok calma eh Allora ne tiro un'altra qui un'altra qui un'altra lei Oh cavolo Attenzione C'ha visto Ah no Ma si è messo a piangere Ma come si è messo a piangere? Ok va bene abbiamo addirittura anche lo shop Raby Incredibile mi piace mi piace mi piace Sì va bene non possiamo spendere tutti i nostri soldi per queste stelle Ok va bene però direi di fare così Però abbiamo gli upgrade guarda A 50 stelle abbiamo il cactus Ci sono anche gli animali nuovi Oh ma c'è una rana E le armi guarda Le armi L'aeroplanino di carta eh Ok l'aeroplanino di carta è un'arma super ragazzi Ok facciamo un turno a testa Adesso inizio io a rompergli le scatole eh Ok ma la stai facendo molto arrabbiare eh Professoressa oh mi senti? Ma fa mondo anche Non si zira non si zira inutile Raby guarda Secondo me si arrabbierà molto Arrabbiati Che succede? Ma nooo Ma gli hai cascato una tonnellata Ma gli hai cascato qualcosa addosso Poverino ok tocca a me Allora puoi prendere qualcosa nello shop eh È vero? No sono solo 46 No 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 guarda puoi prendere qualcosa nello shop Guarda a 50 posso prenderlo Ti dico guarda che puoi prendere già Mente te l'ho detto a 50 A 50 Adesso sei arrivata adesso a 50 Ecco adesso posso prendere qualcosa Andiamo a vedere Allora vediamo un po' Allora c'è l'aeroplanino di carta Il cactus Il cactus e il pet Allora eh sono tentata a prendere una rana Così fa qua qua Però anche l'aeroplanino Ok abbiamo preso l'aeroplano Attenzione ragazzi con l'aeroplano Ah si arrabbierà molto più fa Hai visto? Guarda la barra rossa No Va su molto più facilmente con l'aeroplano Oh cavolo Adesso secondo te che cosa fa questa qui? Che cosa succede? Non lo so secondo me si sgriderà molto Vediamo Arriva una nuvola Come fate tra No gli piega sulla testa Ma no No si è arrabbiata un sacco È sempre più arrabbiata questa prof Eh bisogna stare molto attenti Ok continuiamo a fare punti Perché voglio sbloccare anche la rana Reby Non possiamo cliccare altre cose Allora solo il pappagallo Solo lei E il mappamondo eh Ok però guarda Oh Vediamo No Oh mamma ma come va? La classe è sommersa dall'acqua Abbiamo fatto la classe con i pesci No cavolazzo No vabbè Ok allora vediamo 33 stelle Comunque ad ogni livello aumenta anche la barra della faccina Che ovviamente non è una faccina felice come quella in questi occhiali Ma è una faccina molto arrabbiata Ok dove? Beve la funzione No Perché è bevuto quello? Oh Ma è diventata piccola dove va? No Ma dove sta andando? Dove va? Eh ciao Eh ciao prof Ok se ne è andata ragazzi Che ne è andata? Va bene Upgrade Prendiamo il cactus Cosa facciamo col cactus? Non lo so vediamo Ci dà più punti Ci dà molti più punti Rebby eh Ehi ma toccava a me No un altro po' io fammi giocare dai Ma toccava a me Ok vediamo adesso di nuovo la nuvola Attenzione Allora comunque se vorrei chiedere una cosa a Echo Echo Eri bravo a scuola? Non lo so No non lo so Echo Echo Qual è la tua materia preferita? La mia materia preferita è la matematica Adoro risolvere i problemi Ok wow Ok allora bravo Echo perché la matematica è una delle materie più difficili Echo 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 Dorme 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 Echo Noi svegliamo questa professoressa invece che non può dormire Ti aiuto ti aiuto Ehi smettiti tu no Professoressa Professoressa Attenzione Ma si arrabbiata Ma si arrabbiata Ma non ha fatto niente Aiutatemi Ho chiesto di aiuto Edi poverina E diciamo che la stiamo infastidendo un bel po' Uh secondo me possiamo fare una upgrade Vediamo Attenzione La rana La rana Ok vediamo che succede con la rana No la rana Sapevo che avrebbe gracchiato tutto il tempo in classe Io comunque sono curioso di vedere che cosa succede appena arriviamo con la fazzina al massimo Attenzione No una gru Portano via la prof Prof aiuto No è brava Certo che allora questa prof è un po' cattiva però bisogna anche dire che comunque la stiamo facendo arrabbiare un bel po' Ok continuiamo a far arrabbiare la prof Vediamo adesso che Ma ha fatto tremare la classe ragazzi Ha tirato un urlo incredibile Che cosa è appena successo Allora andiamo in upgrade Vediamo ancora non possiamo prendere niente Scegli te la prossima cosa da prendere Io direi la mela La mela eh La mela perché la mela se la tiriamo in testa mi sa che farà arrabbiare molto la prof E guarda quante cose Rebi che possiamo sbloccare Ok sì ce ne sono parecchie Allora io voglio andare avanti e tirare aeroplanini ovunque Vai 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 arrabbiare vai arrabbiare Attenzione ragazzi stiamo tirando gli aeroplanini ovunque Però bisogna dire che è anche paziente questa prof Perché altrimenti ci avrebbe già sbattuto fuori Forse adesso Dai ma l'hai fatto piangere Mamma Merina non volevo farla piangere mi scusi Eh vabbè e io continuerei eh Allora Rebi compriamo la mela Aspetta guarda Era venuto fuori il ventilatore Con il ventilatore ragazzi tutti sanno che gli aeroplanini vanno molto più veloce Ok vediamo tiriamo una mela Oh più 4 Ci dà sempre di più hai visto No però non le mele alla rana Rana poverina Rana la mele alla professoressa Guarda una cucchietta non avevo fatto niente Ok gli casca un'altra volta il peso No Mamma mia Una tonnellata sopra la testa Ok io direi di tirare le mele alla prof E al cactus Perché poverina la rana gli facciamo male Guarda la faccia della rana Ok allora direi di andare avanti Fin quando non raggiungiamo la faccina al massimo Perché io voglio vedere che cosa succede Ad esempio adesso Un'altra volta dalla gru La riportano via Ciao prof Oh Ciao prof Non l'abbiamo mai fatta diventare un palloncino Io non ci posso credere Ok allora chissà che cosa succederà ancora questa prova era prof Oh possiamo sbloccare qualcosa Vediamo Ventilatore Vai E adesso vediamo Ventilatore Più sei Più sei Ma Che fa Oh mio dio ci dà tanti punti Reby eh Ma non fa tirare le mele più veloci No però la fa arrabbiare molto di più eh No prof non diventi un pallon un'altra volta No 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 palloncino no No non palloncino E' un palloncino piccola Ciao Ciao Allora Reby possiamo comprare Che cos'è? Un topolino Un roditore Vediamo No poverino No No povero topolino Povero topolino Però più otto quel topolino Più otto eh Tanta roba Vai continuiamo Topolino E la prof se ne va via un'altra volta Ciao arrivederci alla prossima lezione Oh che è un fantasma Oh mamma adesso Prova attento Ma non ho paura Ah Ma cavolazzo E infatti dicevo Non aveva paura Stava così la prof Dai siamo quasi a metà Dobbiamo continuare a rompergli le scatole Perché secondo me esplode appena arriva la fazzina al massimo Oh mamma speriamo di no Allora i prossimi upgrade sono a mille Abbiamo un uovo No vabbè lo spinner Ma non è lo spinner E' un uovo sodo No è un mini spinner Ma non è uno spinner E' un uovo E' un uovo Ma un mini spinner Ma che cosa ha visto? Ma non possiamo arrivare a tirare le uova Dai Eh tiriamo le uova Dai Oh mamma E lei tanto beve la pozione Diventerà un pallone questa volta Ma io no No è diventata minuscola Vediamo se possiamo comprare qualcosa Allora questa è una bilancia Non è una bilancia E' un gong E' un gong Ma dove la vedi la bilancia? E' un gong Va bene un gong Poi abbiamo un octopo Polipo Sì E' l'uovo Io direi l'uovo 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 assolutamente Lanciamo le uova Nooo poverina Rémi Lanciamo le uova dappertutto Oh mamma Qua finisce male ragazzi Si dirà malissimo Siamo comunque quasi a metà eh E' vero Oh mamma Non ne può più di noi lei Allora secondo me le uova non sono più abbastanza Dobbiamo fare un upgrade Allora io direi Il polipo Il polipo Oppure Il polipo Oppure il gong Il gong Il polipo Il polipo Il polipo Il polipo Oh mamma ragazzi col polipo Che cosa No No povero polipo Oh no ma poverino Il polipo Ok allora ragazzi Stiamo toccando il fondo Poverina Ne abbiamo fatto di tutti i colori No Allora io direi che è arrivato il momento del gong Si Oh e adesso Vai Ragazzi Ragazzi faremo un baccano assurdo Secondo me si arrabbierà tantissimo Oh 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 no Oh no Allora a breve ci siamo A breve raggiungerà Tutta la barra della pazzina arrabbiata E poi secondo me cambierà professore Perché lei non ci sopporta più Allora ragazzi mi raccomando nel frattempo che noi continuiamo a far arrabbiare la prof Voi scriveteci qua sotto nei commentini qual è la vostra materia preferita Allora abbiamo abbastanza soldi per comprare Un palloncino Un palloncino Un palloncino d'acqua No Beh però non so se è peggio il palloncino d'acqua o l'uovo eh Io mi sa che preferirei il palloncino d'acqua Ok a breve si arrabbierà del tutto ragazzi Oh mamma Prepariamoci al peggio Allora ragazzi è il momento dell'upgrade Vediamo un po' Allora possiamo comprare un televisore No a 2003 Un pipistrello Un pipistrello No vabbè Il maffino Ok allora facciamo così 2003 direi computer 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 vediamo No error Abbiamo rotto il computer No piano No abbiamo rotto il computer No abbiamo rotto il computer Attenzione No È caduta di sotto È caduta di sotto ragazzi No vabbè Ok attenzione perché è quasi piena È quasi piena Etta rossa eh Ok questa qui si licenzia secondo me Se ne va Adesso se ne va Piano Valla Cosa ne se ne va Oh E quindi Adesso Cosa succede? Ok forse ne manca uno Cosa sta succedendo? Ne manca uno Ho seriamente paura Io scappo È la colpa è stata tua eh Vediamo La colpa è stata tua Fram 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 E adesso? No si è licenziata No Si è licenziata E adesso ragazzi? No No L'abbiamo sconfitta L'abbiamo sconfitta New teacher No abbiamo un nuovo professore Un nuovo professore Siamo stati talmente birichini Che ci hanno dato un nuovo prof E quindi? No Oh mio dio il sergente No ragazzi abbiamo il sergente Sergente Il sergente però è un po' più cattivo Oh cavolazzo ragazzi Io direi che per oggi abbiamo fatto arrabbiare Un sacco la professoressa Direi basta da noi è tutto Però prima sapete che cosa voglio vedere La reazione di questo Sergente Non facciamo arrabbiare Piano Abbiamo fulminato Il sergente Allora io direi che abbiamo già fatto abbastanza danni per oggi Quindi ragazzi mi raccomando Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like E noi ci vediamo presto in un nuovo fantastico video Ciao 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 Grazie.